Un escape room interamente dedicata al mondo di Saw, l'enigmista. Si chiama The Official Saw Escape Experience ed è a Las Vegas, in Nevada. La particolarità però è che non si tratta di una semplice escape room. L'esperienza ha luogo in un intero stabile composto da una moltitudine di stanze, in modo da replicare alcune delle celebre situazioni viste all'interno dei film. Sarà possibile partecipare in gruppi da 4 a 10 persone e la casa di produzione ha persino sottolineato che non sono previste vere mutilazioni o uccisioni, ovviamente. Quella che vado a leggervi è la descrizione ufficiale. The Official Saw Escape è un'esperienza di fuga a multi-room progressiva e coinvolgente che porta in vita i contorti giochi ispirati al franchise di film di successo Saw. Gli ospiti entrano nello storico stabilimento di Egan & Company Meatpacking per un tour after hours, solo per scoprire che ben presto faranno parte di un elaborato gioco ideato dal famigerato assassino Jigsaw e dai suoi discepoli. Lavorando insieme per combattere le loro paure, uscendo dalle loro comfort zone e risolvendo intricati enigmi, gli ospiti hanno l'opportunità di conquistare la libertà mentre attraversano i meandri di un'intera fabbrica di giochi di Jigsaw, una delle più grandi esperienze di fuga nel mondo. In descrizione potete trovare il link al sito ufficiale dell'attrazione e un breve trailer. Grazie per la visione!